Venne istituito nel 1982, ma la tua sorella non poteva mai ritirarlo. Ora, chi ideò il premio ha voluto spostare questa premiazione. Purtroppo, dopo tanti anni, dopo la scomparsa dolorosa di Mia, alla sorella che rappresenta questo momento e che è molto legata alla sua memoria, come tutti noi. Quindi, dopo 26 anni, il premio originale, premio della critica, viene consegnato a Loredana Bertè. Stiamo riduciando, l'aspetto di aver visto il premio e portiamo la casa. Grazie. Dovevo fare solo questo, un feste normale. Perché queste immagini rimane in eterno, le volevo fare per la serie. Che purtroppo, con Sanremo non c'era mai capito niente, era sempre sbagliato tutto giocando. Ho sbagliato. E questo lo volevo fare così, così semplice, perché volevo vuoi darmi a casa questo piatto. Grazie. Grazie. Ecco, quelle lacrime, quelle stesse lacrime, è questa sera. Però noi vogliamo vivere questa sera come se fosse una festa. E quella canzone io la voglio far ascoltare ancora, perché aveva vinto il premio della critica. La critica, doganato, finalmente. E non finisce, mica il cielo. Eccolo qua. Grazie. E non finisce, mica il cielo.